E' stata una notte terribile. Migliaia di uomini dimorati dai pesci, ancora enormi. E poi? E poi i cumuli di perle, pietre preziose, diamanti favolosi sparsi sul fondo del mare. Ah, ce n'erano anche alcuni nei teschi umani e nelle cavità dove un tempo c'erano gli occhi, brillavano gemme preziose che corteggiavano il fondo degli abissi. Tesoro, io ti suggerisco un uso più moderato di sostanza. Vediamo come prosegue. Basta! Mi sono svegliata, tutta sudata e col cuore che batteva fortissimo. La ricetta è una ricetta, intendo. Legge. Non mi ascolti? Leggi, su. Signora Rosi, lei ascolti, eh? Certo, signora. Dunque, eliminate i grossi vasi tagliando la parte superiore. Fate scaldare l'olio in una casseruola, mettetevi il cuore e lasciatelo rosolare a fuoco vivo finché sarà colorito in modo uniforme. Ma attenzione, concetelo al massimo un minuto perché il cuore è fatto di sangue. Il cuore assorbe tutto. Il cuore assorbe tutto. Capabile.